Eccoci ragazzi, oggi saliamo in una cima a cui sono molto affezionato che è il Monte Cornetto sulle piccole Dolomiti Ci sono qui le nostre ragazze che sono in formazione alpinistica Partiamo con il sentiero 175 fino alla saletta Emele e poi vediamo se ce la facciamo superare il piccolo salto Per raggiungere questa bellissima cimetta che sta proprio al centro delle piccole Dolomiti tra il Pasuglio e il Carega abbiamo parcheggiato la macchina su dei comodi parcheggi vicino a Malga Cornetto che sta a pochi metri, non molto distante dal passo Pian delle Fugazze Da lì si prende la vecchia cararezza chiusa al traffico che porta al passo Campogrosso Dopo un quarto d'ora 20 minuti di dolce salita si monta sul sentiero 165 che con ampi zig zag prima su una zona boschiva poi sul pendio, ora insomma sul pendio erboso porta su col panorama che piano piano si apre verso la pianura padana sentiero abbastanza ignorante fa tirare un po' fuori la lingua ma prende quota molto velocemente no! Stava a buttarti! no! Stava a buttarti! con il tratto di catena per salire qui le ragazze sembrano un po' preoccupate ma vi dico che sembra di più da là che starci si vieni però attenta che non ti tiri vieni su Marghe musica 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 e allora Montecornetto cosa dite? beh si può fare si può fare? si può fare l'avete fatto? ce l'abbiamo fatta? salita bisogna anche scendere il panorama verso la pianura è questo oggi per il momento la croce di vetta allora siamo riscesi alla sella al passo del cornetto e adesso abbiamo iniziato il sentiero di arroccamento che ci porterà fino a Campo Grosso a Campo Grosso dai smetti la Marta sei stupida c'è un clima di collaborazione in queste gallerie a Campo Grosso a Campo Grosso a Campo Grosso qui poi facciamo una cosa molto semplice torniamo per la caravezza e per il famoso punto a Campo Grosso allora ragazzi il nostro giro sta per finire consigliatissimo sì o no? assolutamente bello vario è consigliato bellissimi scorci ogni volta che lo ripetiamo ci piace sempre di più quindi ragazzi ci vediamo ai cadini a meno che non andiamo a fare un altro allenamento la prossima settimana video dei cadini che prima o poi linkeremo sopra qui da qualche parte giusto a fare consigli di youtuber io sarò obbligata ad evitare esatto Margherita tu vuoi salutare? sembrano quasi stanche bene comunque venite a fare questo anello perché è veramente molto bello grazie a tutti a tutti grazie a tutti